Benissimo, quindi avete capito sia l'area di Largo San Paolo ma anche le botteghe artigiane. Chi è interessato? Io credo che le botteghe artigiane siano una cosa eccellente. Secondo me bisognerebbe anche creare un flusso di trasporti perché sembra poco, però vedete la città è grande e spesso i visitatori, molti, sono anzianotti e così perché sono soprattutto magari pensionati che si possono permettere di fare grandi, stare 7-8 giorni in un posto e quindi girare. Quindi è chiaro che se gli dessimo la possibilità, visto che Pullman non possono entrare a Imbla, qualcosa che li possa spostare facilmente, che possa permettere di spostarsi facilmente da una parte all'altra. Allora, l'altra cosa di cui ha parlato il sindaco è quello che c'è un progetto che riguarda anche i bassi di Palazzo Ina. Ora, io lì sono un po' dispiaciuto perché nei bassi di Palazzo Ina c'è l'ufficio informazioni turistiche al centro della città, un ufficio che ho voluto io ai tempi di quando facevo il consulente al comune e mi sono battuto per realizzare questo ufficio di informazioni nel posto più bello della città. E' probabile che sia male non gestito, ma che la fruizione in questi tempi è un po' più difficile e allora dice il comune, se riusciamo a farci dei negozi, forse è meglio perché serve ad attivare la vita all'interno di Piazza San Giovanni. Non mi piace, ma non è criticabile, quindi è una cosa. L'altra preoccupazione è il fatto di Carmine Putie. Ha detto il sindaco che il Carmine Putie, che sarebbe quella zona a fianco al tribunale, la daremo al tribunale che ha bisogno di spazi. Allora, a me avevano detto che quando avevano fatto la questione di chiudere Muorega e aprire Rausa come tribunale, c'era scritto che non bisognava spendere una lira. A me invece pare che fra Palazzo Ina, Carmine Putie e tante altre cose, al comune di Ragusa arrivano mazzate, che se le dovessimo quantificare sono mazzate abbastanza forti. Forti, va bene? Va bene, allora, quelli sono i bandi, ora parliamo di consiglio comunale con la nostra rubrica, ma al comune ci sono argomenti interessanti, vediamo.